Siamo a Nuova Delhi, dove si rinisce l'organo direttore del trattato sulle risorse antigenetiche per la ricoltura e l'alimentazione. Siamo qui presenti con una delegazione dell'IPC, composta da contadini di diversi continenti e rappresentanti della società civile. Siamo qui oggi per sostenere e richiedere l'applicazione dei diritti dei contadini e dei popoli autottoni a utilizzare, scambiare, riprodurre, moltiplicare e vendere le sementi. Siamo qui perché vengano rispettati i nostri diritti alle sementi e per rivendicare il diritto dei contadini e delle comunità autottone ad accedere al sistema multilaterale in modo che le nostre sementi non ci vengano sottratte e non cadiamo vittime della piratemia.